Come si salva il territorio dalle frane dal dissesto? Lo ha spiegato nei giorni scorsi ai 18 allievi dell'Istituto Agrario Raineri Marcora, un vero e proprio team di prevenzione. Nella frazione di Missano di Travo si è tenuta la lezione a cielo aperto sulla manutenzione del territorio, primo embrione di una spicata scuola antidissesto che potrebbe formare una nuova generazione di abitanti più sensibili alle tematiche ambientali o capaci di effettuare prevenzione senza danneggiare il territorio. Il mio sogno di sempre è portare i ragazzi fuori dalle aule scolastiche e metterli di fronte alla realtà, una realtà che è fatta di testa, di mani e di passione. Sono riuscito a creare un gruppo di studenti che mi hanno pulito un fosso in 5 minuti, 40 metri fatti 5 minuti ed è stata una cosa bellissima e piacevole vedersi perché un fosso era sporco prima e dopo 5 minuti era tutto pulito alla perfezione. Spero che questa attività possa durare nel tempo e coinvolgere le autorità, le varie istituzioni come giusto che sia.